Una maglia storica del Bari Calcio per ogni mese dell'anno. Anche per il 2024 l'Associazione Museo del Bari, rappresentata da Roberto Vaira, Francesco Girone, Alex Guarini e Franco Egidio, ha confezionato un regalo per tutti gli appassionati dei colori bianco-rossi. È il nuovo calendario del Museo del Bari Calcio, realizzato con il patrocinio dell'Assessorato Comunale allo Sport, del Centro Sportivo Educativo Nazionale e della Lega Nazionale Direttanti Puglia, presentato a Bari nella sala consigliare del Comune. Il nuovo calendario del Museo del Bari 2024, anche quest'anno dedicato alle gloriose maglie della storia bianco-rossa, la squadra della nostra città, il Bari, che abbiamo deciso di mostrare nei punti più iconici della nostra città. Abbiamo deciso di rinnovare ancora una volta questa modalità. Sarà possibile acquistarlo nel punto Veneta, Casa Bari, presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Iapigia, ma a breve anche sui nostri canali social del Museo del Bari, vi indicheremo anche ulteriori località e punti vendita dai quali sarà disponibile. L'iniziativa ha anche un intento benefico e solidale. Parte del ricavato del calendario 2024 sarà destinata infatti alla parrocchia del Redentore nel quartiere Libertà e alla parrocchia della Risurrezione nel quartiere Iapigia. Una bella iniziativa perché tiene dentro due passioni. La passione per il calcio, attraverso queste maglie e attraverso la passione anche del Museo del Bari e poi la passione per la nostra città. C'erano degli angoli molto belli ed è quindi bello che loro abbiano deciso di fare questo connubio. In più tutto questo abbraccetto con la solidarietà perché aiuteranno anche un paio di realtà parrocchiali, quindi bello. Compratevi il calendario del Museo del Bari. Grazie.